Revitalizzato dalla gestione Ventura, ACPAC Pro è uno dei punti cardine della Salernitana. Arrivato all'ombra della Reiki due stagioni e mezzo fa, l'ex capitano del Tolosa quest'anno è riuscito finalmente a trovare quella continuità che gli era mancata in passato per via dei numerosi infortuni subiti. Adesso il Franco Ivoriano è uno dei leader della formazione Granata, al punto di aver attirato su di sé l'attenzione di numerosi club. Il suo contratto scadrà a giugno 2021, ma non è da escludere che Lotito possa blindarlo, anche grazie all'intervento della Lazio. Nel frattempo, il calciatore non nasconde i suoi ambiziosi obiettivi. Allora, sono arrivato con l'oggettivo di andare in Serie A con la Salernitana. E poi, se la squadra ha le stesse ambizioni di me, vedo bene chiudere la mia carriera qui a Salernitana. Penso di Salernitana, che è una città bellissima, con i posti bellissimi e una gente molto simpatica. Mi trovo bene, sono contento, anche la mia famiglia siamo tutti contenti. Rispondendo alle domande dei tifosi, ACPAC Pro ha svelato anche quali sono i suoi idoli e i club che più gli piacciono. Il mio idolo è Zinedine Zidane e le squadre che mi piacevano e che mi piacciono ancora sono la Juve e Real Madrid.